Dopo l'uscita dal commissariamento cambia la sanità abruzzese. Nell'ultima riunione di giunta il governo D'Alfonso ha varato sostanziali novità nell'assetto dell'assistenza socio-sanitaria. Infatti, su proposta degli assessori Sclocco e Paolucci rispettivamente al sociale e alla sanità, la Regione ha dato il via libera all'accorpamento degli ambiti sociali ai distretti sanitari. Un provvedimento questo necessario per accedere alla ripartizione dei fondi regionali e a quelli di derivazione nazionale destinati agli enti locali. Ma abbiamo definito che la centrale di convintenza per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, tutte insieme e territoriali, avverrà presso i distretti sanitari e quindi coinciderà il distretto sanitario e l'ente d'ambito sociale. Si aspettava una riforma di questo tipo da tanti anni in Abruzzo, davvero tanti. Alcune regioni, quelle che erogano il miglior servizio socio-sanitario territoriale migliore, lo hanno fatto già da qualche decennio, circa 15-20 anni qualcuna. Ieri poi il gruppo Maltauro Costruzioni di Vicenza ha presentato alla Giunta la proposta di project financing da 200 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale clinicizzato di Chieti. Maltauro, in attesa della valutazione del governo regionale, ha garantito che una volta acquisita la concessione, il nuovo nosocomio sarà realizzato in cinque anni e al termine dei lavori l'immobile verrà concesso in locazione all'ASL Teatina per un tempo compreso tra i 20 e 25 anni, durante il quale è previsto un canone di disponibilità. Terminato il periodo di affitto, l'ospedale diventerà a tutti gli effetti di proprietà dell'ASL. Noi proveremo a fare un ospedale, un'offerta ospedaliera diffusa, che dia qualità e eccellenze, ovvero alcuni reparti saranno tali per tutta la regione Abruzzo e dovranno erogare outcome, si dice tecnicamente, ovvero qualità, esiti, che siano estremamente favorevoli per il cittadino.